Musica Eccoci qui ritrovati in questa seconda parte di Angoli dicevamo puntata dedicata alla cultura in questo caso cultura a fin di bene perché domani giovedì 13 marzo si trarà questo concerto Lights on Africa presso il Duomo di Coma alle 19 e dopo soprattutto un aperitivo sempre a fin di bene ne parliamo in compagnia dei nostri ospiti che sono Giovanna Ambrosoli presidente della Fondazione Ambrosoli buonasera buongiorno e Francesca Catelli vicepresidente di Arzana Group buonasera buonasera iniziamo da lei Francesca qual è l'obiettivo di questo concerto di questo evento concerto e poi aperitivo subito dopo organizzato da voi in favore della Fondazione Ambrosoli sì, Lights on Africa nasce proprio dalla collaborazione tra la Fondazione Ambrosoli il gruppo Arzana attraverso il brand Peak Solution con l'obiettivo di raccogliere fondi per il dottor Ambrosoli Memorial Hospital Lights on Africa è un format che si ripete ha fatto il suo ingresso lo scorso anno con un'edizione in mood africano e quest'anno appunto proponiamo nella nostra città quindi sentiamo forte il legame con il territorio un concerto straordinario nel Duomo di Como la call to action quindi il motivo alla partecipazione è molto forte perché ad ogni biglietto venduto corrisponderà presso il dottor Ambrosoli Memorial Hospital un percorso di cura per un bambino a calungo per un bambino affetto da malaria una malattia di cui si sente parlare meno rispetto a quanto si faceva una volta che però continua a essere mortale soprattutto per i bambini Sì, la malaria è ancora una piaga vera e propria nel continente africano e soprattutto nella regione subsahariana di cui fa parte appunto anche l'Uganda e in particolar modo l'ospedale di Calongo che si trova a nord diciamo dell'Uganda è situato in una regione proprio in un'area endemica per la malaria quindi la malaria rappresenta un grosso problema soprattutto per i bambini come per le donne ma in particolar modo per i piccolini che sono le categorie più fragili e quindi che si possono ammalare più facilmente per cui il contributo che riceveremo grazie al gruppo Arzana dalla realizzazione della serata straordinaria di domani sera sarà un contributo importante perché andrà a coprire proprio il costo di cura dei piccoli pazienti presso l'ospedale dove piccoli pazienti intendiamo bambini che sono minori di 5 anni quindi bambini molto piccoli Qual è il percorso della fondazione? Stiamo vedendo alcune immagini proprio della fondazione Ambrosoli come è nata e come si è evoluta poi nel corso degli anni? La fondazione Ambrosoli è nata nel 1998 per volontà dei missionari combognani e della famiglia di padre Giuseppe Ambrosoli che era mio zio e che è stato il fondatore dell'ospedale di Calongo della scuola di ostetricia la fondazione è nata proprio con l'obiettivo di dare continuità di dare un futuro a quest'opera che è veramente essenziale perché l'ospedale ancora tutt'oggi è l'unico punto di riferimento sanitario di un'area molto vasta che copre circa 5 distretti con una popolazione di circa un milione e mezzo di persone quindi è una realtà molto importante Ecco Francesca, come nasce poi il legame tra la fondazione e Arzana? Come vi siete? Arzana nasce proprio come associazione che gestisce questa rete di supporto alle fondazioni Qual è il legame poi nel caso specifico con la fondazione Ambrosoli? Dunque, il nostro incontro avviene nel 2011 quindi ormai tre anni fa In azienda avevamo desiderio di dare anche al brand Pick che è uno dei brand di Arzana un impegno sociale quindi un impegno nel sociale e per farlo abbiamo pensato che in primis avremmo dovuto guardare vicino a casa nel senso che la nostra è un'azienda di Como noi condividiamo con la fondazione Ambrosoli il territorio di appartenenza condividiamo i valori condividiamo anche proprio il legame con il territorio e quindi da un caffè con Giovanna in realtà è nata questa collaborazione che è cresciuta nel tempo nel senso che l'approccio al progetto è quello a piccoli passi nel senso che noi sentiamo molto forte la responsabilità verso la fondazione perché ci rendiamo conto che raccogliere fondi è certamente un impegno verso i nostri partner nel no profit e quindi cerchiamo di farlo in modo continuativo rispettando delle regole etiche che ci portano anche a essere molto selettivi in tutto quello che è la raccolta fondi per cui a essere molto trasparenti anche nel modo in cui noi esplicitiamo il fundraising spesso i consumatori ci chiedono ma di questi eventi che organizzate di intrattenimento eccetera quanto poi l'azienda trattiene perché alla fine è una domanda ricorrente nel no profit e in questo noi lo abbiamo condiviso con Giovanna con la fondazione dall'inizio preferiamo fare magari una cosa in meno ma farlo insieme e soprattutto non trattenendo nulla quindi diciamo che quello che sono le spese organizzative di progetto sono una spesa di cui si fa carico l'azienda con l'obiettivo appunto di raccolta fondi fondi che poi vanno destinati alla fondazione e volta per volta è poi la fondazione a segnalarci i bisogni emergenti e quindi è anche un modo sempre un po' di reinventarsi nel senso che è anche un modo per noi che viviamo il mondo dell'azienda di essere come dire anche vicini a un mondo a un mondo diverso e di vivere anche il business in un modo più umano più partecipe, più responsabile, sì Giovanna, tornando all'evento di domani abbiamo detto prima parte alle 19 un concerto all'interno del Duomo che è quindi una location molto suggestiva comunque che tipo di concerto sarà? è un concerto suggestiva alla sera quindi che la rende ancora più particolare e sarà cura del teatro sociale che verrà eseguito un repertorio di Ave Maria proprio a cura del teatro sociale dei vincitori del premio Aslico il concerto ovviamente essendo in Duomo è aperto a tutti a tutta la città infatti come diceva Francesca quello che abbiamo voluto grazie a loro diciamo portare avanti è proprio un evento che fosse aperto e che portasse a conoscenza il progetto dell'ospedale di Calongo per chi ancora non lo conosce e la collaborazione con il gruppo Arzana di un grande numero di persone a seguire ci sarà un aperitivo solidale nella sala bianca del teatro sociale presso il teatro sociale proprio all'interno del teatro non della sala bianca perché la partecipazione è stata veramente una risposta una grande risposta da parte di Como molto numerosa ma è meglio così esatto e il contributo di partecipazione per l'aperitivo è di 20 euro perché 20 euro rappresentano il costo di cura quindi del trattamento reidrateante del trattamento antibiotico sia che sia e del personale sanitario a Calongo per un bambino affetto e quindi da malaria e sembra comunque 20 euro per noi magari è una cifra relativamente irrisoria in realtà con questi 20 euro appunto si riesce a fare tanto sì con questi 20 euro si riesce a fare molto perché appunto se noi pensiamo la malaria è la più grande causa diciamo la prima causa di ricovero per tutti soprattutto per i bambini in ospedale ed è ancora la prima causa di morte quindi immaginiamo cosa possano fare questi 20 euro questo contributo di 20 euro nei confronti dei pazienti dell'ospedale soprattutto bambini molto piccoli cioè un contributo essenziale ci sono altre attività vi state già muovendo per qualche altro tipo di iniziativa? Beh diciamo che noi cerchiamo di essere il più dinamici possibili perché questo sia nelle iniziative con i prossimi eventi perché questo ci permette di raccogliere quanti più fondi verso l'ospedale e i fondi vengono destinate sia in gran parte diciamo alla copertura di parte dei costi del fabbisogno corrente dell'ospedale che è la parte essenziale perché coprire il costo del personale dei farmaci del materiale sanitario è quello che poi permette il funzionamento diciamo in interrotto dell'attività medica quindi è un intero ospedale gestito dalla fondazione sostanzialmente no gestito non è il termine adatto perché l'obiettivo della fondazione sempre sotto legida dell'ideale con Bognano salvare l'Africa con gli africani è promuovere soprattutto l'autonomia di gestione da parte del personale locale quindi oltre diciamo al finanziamento all'erogazione di fondi per coprire i tanti bisogni dell'ospedale obiettivo primario della fondazione è quello proprio di sostenere la formazione e lo sviluppo professionale del personale con l'obiettivo chiaramente di lungo termine ancora più grande e sicuramente più lontano di portare questa struttura all'autonomia gestionale ecco tornando magari nello specifico all'evento per chi volesse partecipare o per dare fare delle donazioni alla fondazione quindi per questo progetto o anche per altri progetti c'è un sito sì allora per quanto riguarda la fondazione il sito della fondazione è www.fondazioneambrosoli.it per quanto riguarda il concerto di domani sera e la possibilità di partecipare all'aperitivo solidale i biglietti si possono acquistare sul sito di aiutacompic di Arzana aiutacompic.com slash lights on africa che è questo esattamente che stiamo vendendo adesso esattamente biglietti ce n'è ancora abbiamo detto c'è stata una grande partecipazione però è ancora possibile comunque aderire e aiutare sì sì e speriamo appunto c'è già una grande risposta ma sicuramente pensiamo che crescerà ancora ancora di più allora ricordiamolo ancora una volta perché male sicuramente non fa concerto lights on africa alle 19 al duomo di como domani giovedì 13 marzo e subito dopo l'aperitivo quindi orientativamente 19.45 al teatro sociale sempre di como ringraziamo quindi Francesca Catelli vicepresidente di Arzana Group grazie per essere stata con noi e ringraziamo Giovanna Ambrosoli presidente della fondazione Ambrosoli grazie grazie mi raccomando non mancate alla puntata di domani ma soprattutto non mancate domani per questa iniziativa che unisce come dicevamo prima cultura e solidarietà noi ci ritroviamo domani adesso lì nel TG grazie buona serata